Allora, posso dire una cosa, lo dico a ragione da 10 anni, il pallone è, sta sempre a me che mi ce lo dico, voglio dire, a questo problema non dobbiamo, no, perché magari lo ha solito, 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 magari, mi potete dire, non è che il pallone ha ragione, perché è lo sport che ha ragione, è il calcio che ha ragione, non è lo dico a ragione, E' un calcio che ha ragione, non è lo dico a ragione, vuol dire, sempre, guarda, e questo è il sistema, no, se lo dico a ragione, non è sempre un momento, è un'impresa, è un'impresa, è un'impresa.